Madonna! Il video non poteva iniziare così, con un'imprecazione forte, spero che nessuno si offendano, non ho detto niente, ho solo evocato. Quanto sterco, diciamo così, che mi sono preso nei commenti. Non immaginavo, vi devo dire la verità, nell'ultimo video, perché io capisco che una figura giornalistica possa piacere oppure no, però speravo che si desse un po' più importanza a quello che aveva da dire, perché secondo me si è scavato, e io vi dico anche la verità, sono dell'idea che sia molto interessante constatare che rispetto a 10-15 giorni fa, quando lo stesso Giovanni Albanese sul suo canale YouTube e sulla Gazzetta dello Sport aveva palesato la possibilità concreta di un rinnovo di Massimiliano Allegri, a distanza di due settimane si vada un po' a ritrattare quella lettura, e si vada a dire che la dirigenza della Juve oggi va a constatare, che era certo quello che era l'obiettivo finanziario dirigenziale, cioè l'accesso alla Champions League, ma che quello non era condizione necessaria e sufficiente affinché si potesse andare avanti insieme. Non so se ve ne siete accorti, ma all'interno di quel video caricato prima sul mio, poi sul suo, ci sono stati, secondo me, quelli che sono i primi veri dubbi, anche da parte di quelle figure che sono più vicine ad Allegri, giornalisticamente parlando. Giovanni è sempre stato uno molto più dalla parte di Allegri, questo credo che sia un dato di fatto, questo è una cosa che, secondo me, possiamo constatare tutti, è il fatto che lui vada a mettere in dubbio la figura di Allegri per l'anno successivo, perché la Juventus sta facendo delle riflessioni che vanno oltre quello che è il semplice obiettivo dirigenziale, economico, ma basandosi su quelli che sono invece dei parametri meritocratici dal punto di vista sportivo, ragazzi, per me era una cosa molto importante, infatti ci sono un po' rimasto male, devo dire la verità, per la mole di commenti che è arrivata, ma in generale ho visto che il dibattito si è focalizzato soprattutto su una parola che è stata ripetuta tante volte da Giovanni e per la quale io non l'ho mai smentito, e cioè anno zero. E allora io voglio cercare di analizzare, insieme a voi, questo concetto, perché secondo me va rielaborato. Io non ho mai fermato Giovanni perché per me siamo nell'anno zero della Juventus. Attenzione, anno zero della Juventus. Non ho detto di Massimiliano Allegri. Se mi avesse detto Allegri è al suo anno zero, avrei alzato la manina dicendo no, è all'anno tre. Allegri è all'anno tre di quattro di contratto e per quanto mi riguarda questo è, deve essere assolutamente l'ultimo anno in panchina per Massimiliano Allegri, con il quarto anno che gli era stato promesso che non verrà esercitato. Succederà, boh, io dopo essermi illuso l'anno scorso sul fatto che potesse esserci un cambio in panchina ci vado molto più cauto e aspetto le ufficialità, perché come potete vedere se due settimane fa si parlava di rinnovo, di tutti felici, belli e contenti, oggi c'è calma, d'accordo, gli obiettivi dirigenziali, ma quelli sportivi sono un'altra roba, maggior ragione, nelle difficoltà, quindi io ci vado un po' calmino, ok? Però vi dico anche, devo per forza di cose dirvi anche, che per me la Juventus è all'anno zero e questo è un concetto secondo me molto sottile, però va scavato e va ragionato. Intanto ieri vi dicevo, è ora di rimettere davanti la Juventus, quindi quando si parla di anno zero della Juventus, non si può dare per scontato a chi sia l'anno zero di Allegri, perché Allegri è un dipendente della Juventus. Però io parto sempre da un presupposto, che però è probabilmente un presupposto mio e che devo condividere per forza di cose con voi, e cioè che le squadre le creano i dirigenti. È ovvio che ancora più sulle squadre le creano i proprietari, indubbiamente, perché è il proprietario che mette il dirigente, per intenderci, no? Se dovessimo fare un organigramma della Juventus, non è giunto lì il capo della Juve, la Juve è di Exor, che è in mano alla famiglia El Canagnelli e bla 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 bla. Però se devo ragionare puramente dal punto di vista sportivo, il vertice più alto dal punto di vista sportivo nella Juventus, che sopra di lui ha comunque la proprietà, ma è Cristiano Giuntoli. Cristiano Giuntoli arriva alla Juventus in una condizione molto particolare, perché chi è che sceglie la guida tecnica della squadra? Il direttore sportivo. Cristiano Giuntoli, che era tesserato del Napoli e si è dovuto prima liberare dal Napoli di De Laurentiis, arriva alla Juventus, quando la Juventus, quest'estate, dopo un'annata complicata come quell'anno scorso, extra campo, e come delle, per forza, carenze economiche, qualcuno mi ha detto non sono 100, sono 66, mi pare 70 milioni, io questo non lo posso sapere dal punto di vista finanziario, quelle sono robe che non mi competono, comunque facciamo 70, diciamo 70, ok, con un buco di 70 milioni, ma la Juve ha già fatto gli acquisti che doveva fare, poi ha, l'eventus ha già fatto delle cessioni, e ci sono state delle cessioni come quella di Di Maria, l'unica mossa che fa Giuntoli sul lato delle uscite, andare a bussare da Bonucci e dirgli ciao, grazie di tutto, e Allegri l'ha già stato confermato in panchina, perché prima c'era stata la promozione di Manna, che andava a prendersi l'area sport, e poi l'inserimento di Giuntoli, che va a affiancarsi a Manna, e loro due sono il nuovo nucleo con Giuntoli, che è un po' il capo, da questo punto di vista, il dirigente sportivo della Juventus, quindi Giuntoli arriva, e le mosse che poteva fare dal punto di vista sportivo, bene o male, erano già state fatte. Il primo vero lavoro di Giuntoli lo vediamo all'interno del mercato invernale, dove le richieste sono giocatori esperienza per unire il centrocampo, Buonaventura, Pereira Bernardeschi e arriva Alcaraz, arriva Thiago Jalò per anticipare la concorrenza, quindi le mosse di Giuntoli sono mosse diverse da quelle che abbiamo visto negli anni passati della Juventus, molto diverse, perché le richieste dell'allenatore erano su determinati profili, quelli che sono poi arrivati erano tutt'altro profili, se da una parte si vota il partito dell'esperienza, dall'altro si vota il partito della possibilità economica, dell'autogestione, della finanziabilità e soprattutto della crescita, poi lasciate stare che Alcaraz ha dei costi elevatissimi, ce li ha, però la Juventus probabilmente si mette nella condizione di dire potrebbe succedere che, allora per me quello significa anno zero, la Juventus ha dei nuovi dirigenti dal punto di vista sportivo, e quindi per forza di cose è l'anno zero dal punto di vista sportivo, non dal punto di vista dell'allenatore, e quello secondo me è la grande differenza, poi vi dico un'altra cosa, quando arriva Marotta e si porta dietro Paratici dalla Sampdoria, e mettono del nero in panchina, quello è stato l'anno uno, perché loro hanno fatto delle scelte, sono andati a fare quelle scelte lì, arrivano tra l'anno zero e l'anno uno, e fanno quelle scelte del nero in panchina e bla bla bla, quando l'anno finisce, viene esonerato del nero e arriva Antonio Conte, quello era già l'inizio del secondo anno della gestione Marotta-Paratici, che fanno le squadre, perché sono le dirigenze per me che costruiscono le squadre, assolutamente, e quindi inizia questo ciclo di vittorie della Juventus, ma il primo anno di Marotta-Paratici, un anno disastroso dal punto di vista dei risultati, con anche la conseguente scelta sportiva, poi si è scelta la strada della valorizzazione attraverso un altro percorso, non quello di Gigi Dell'Eri, ma quello di Antonio Conte. Qui Giuntoli non ha ancora fatto delle scelte, che Giuntoli fanno 0.5, se dobbiamo considerare Giuntoli dal punto di vista di quello che ha messo mano nel mercato, abbiamo avuto appunto un rifiuto di seguire delle strade del passato, e una volontà di aprire un nuovo ciclo con delle nuove letture, che vanno in contrasto, in antitesi con quella che è la figura di Allegri. Poi quest'estate Giuntoli dovrà essere bravo a dire, confermo o mando via. E già il fatto che ci siano dei dubbi legati a quello che è l'aspetto dirigenziale, la richiesta economica, cioè l'accesso alla Champions, che ci dà il Vildenero, ma ci sia la volontà di ragionare su un aspetto più sportivo, prima vi dicevo, non so come finirà, però per me è già un punto che dà un minimo di speranza a me, che piacerebbe un cambio in panchina. Quindi secondo me mi dispiace perché si è guardato più la figura di Giovanni che quello che diceva Giovanni, perché secondo me questi sono concetti importanti, e mi dispiace che ci si sia focalizzati su anno zero, dando per scontato Allegri, ma se dobbiamo tornare a mettere davanti la Juventus, allora dobbiamo mettere davanti le figure dirigenziali. Allegri rimane oppure no, lo decide il direttore sportivo, che è Giuntoli. E poi io qua voglio dire una cosa, che la devo dire, spero che possa essere Giuntoli a scegliere, perché magari potrebbero esserci delle pressioni dall'alto, ripeto, Giuntoli è il capo dell'area sport, ma sopra di lui ha delle altre teste, che ha la proprietà e cia 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 cia. Quindi a me piacerebbe semplicemente una Juve che viene scelta da Giuntoli. L'hai preso a capo dell'area sport, è il tuo dirigente sportivo, è arrivato che non ha potuto fare le scelte, benissimo, adesso che è lì da un po' di tempo, e quelle scelte le può fare, mi decide se Allegri è l'uomo giusto, spoiler per me, no, e se è giusto andare avanti con un altro profilo di allenatore, spoiler per me, sì, Tiago Motta, può essere un nome giusto? Secondo me, seguendo questa linea logica, sì, poi bisogna vedere se dentro la Juventus dicono Giuntoli puoi scegliere te, e se Giuntoli e Natesta cia che Allegri è l'uomo giusto oppure no. Però mi dispiace che si sia andati un po' troppo sul discorso, concetto, anno zero uguale, ah no, Allegri è il terzo anno, perché per me non è così l'interpretazione. L'ho già spiegato nei commenti, l'ho già ribadito nei commenti, però secondo me era necessario anche fare un contenuto molto breve perché il concetto per me è talmente banale che ve lo volevo buttare così in pasto e se non avete ancora visto i contenuti a cui faccio riferimento li trovate comunque qui sopra nelle schede. Fatemi sapere la vostra lettura, fatemi sapere se secondo voi questo è considerabile anno zero, ribadisco, non dalla lettura di Allegri, l'anno di Allegri è il terzo e speriamo che possa essere considerato anno zero anche con un titolo perché anno zero e zero titoli ultimamente sta diventando un'associazione fin troppo facile. Però secondo me bisogna sempre pensare prima alla Juventus e per me le squadre le fanno i dirigenti. Se poi Giuntoli confermerà Allegri allora lì faremo un altro discorso e inizieremo a ragionare. Però vi dico la verità, se metto in fila tutte le cose dal punto di vista logico mi viene da dire che magari nella testa di Giuntoli c'è la volontà di un cambiamento. Vedremo perché le parole nei pre-partiti ragazzi lasciatele stare politichese, immaginate Giuntoli che va nel pre-partito e dice ah oggi giochiamo Juventus Prozio non è Allegri, ma guarda non vediamo l'ora di cambiarlo, speriamo solo che finisca quest'anno in fretta così ce ne mettiamo un altro. Ma va là, ma è impossibile dai.